Questo è il Genova Comi, se non facciamo queste puttanate dove ne si fanno? Qua si fa tutto, tutto è lecito, nulla è reale Bravo Attenzione Abbiamo, abbiamo nutella Panino, hot dog che sta cuocendo Coltello per spalmare la nutella E' tanto divertimento E' driven Raven Raven Ma dove lo vieni? Ma lo metti proprio aperto Mezzo è lo gay Unisar Guarda la vera E' il quarto che mi mette la palacca Il numero sei trattola Dun 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 E' il momento della nutellizzazione Grazie Grazie Prego Non lo so Non lo so Non lo so E' un po' strano chiedere Alla da roba Zero Orsi A meno Un rievo Sce Fin praticamente qui, cioè vabbè poi le prime sono uguali io... quello da 2 euro? sì quello da 2 euro 3 o 6 grazie stupendo che coppina ha preso l'edition quella nuova per la ps4 quale? l'edition quella di osiris e io l'ho preso così l'ho preso da poco ma infatti mi è tornata la scena di pomper rider mi è tornata la scena di pomper rider quando hai visto i giorni grazie